E' uno degli intervistati che è su questo quaderno autofinanziato dal gruppo del tavolo Archivio Storico della Garbadella e del territorio del municipio Ottavo. Angelino è uno degli intervistati di questo quaderno perché andava a Bagni Pubblici a Via Arenola. Però si fermava sempre prima a un bar. Qual è il bar di chi? Perché? Che c'era la moglie che era bellissima. Ma era stata una Miss Italia lei? Miss Italia. Ti ricordi di che anno? Ah questo magari, questo no. Questo è un buio. Comunque l'appuntamento è martedì 4 luglio alle 18.30 agli ex Bagni Pubblici della Garbadella. Il libro è un quaderno, questo è il primo, ne usciranno altri di altre storie. e sempre storiche. Il prezzo di copertina è di 14 euro. Noi siccome l'abbiamo autofinanziato cerchiamo di recuperare almeno 10 euro. Se qualcuno dei tuoi avventori, dei tuoi clienti... E poi siccome qui io ho intervistato Sergio Quarantuno, se vuole venire noi leggeremo anche la sua pagina. Ciao, grazie. Ciao, ciao.